Oggi nel daytime, verso le ore 16 e 50 circa, migliaia di spettatori fedeli a Barbara D'Urso, riceveranno una brutta sorpresa Purtroppo su Canale 5 non andrà in onda pomeriggio 5. La decisione di sospendere il programma è stata presa dai vertici Mediaset, e il motivo è piuttosto ragionevole Perché non va in onda Barbara D'Urso.Di domanda.Sabato 15 dicembre è stata trasmessa l'ultima puntata dell'anno di pomeriggio 5 Barbara D'Urso ha salutato i suoi spettatori dando appuntamento a gennaio 2019. Dunque, questo significa che il programma pomeridiano è ufficialmente entrato in pausa per le festività natalizie Ne consegue che per parecchie settimane non vedremo il caffèuccio di Carmelita Quando torna pomeriggio 5.Di domanda.Pomeriggio 5 tornerà nuovamente in televisione a partire dal 7 gennaio 2019 Mentre domenica live il 13 del mese venturo Quest'ultimo contenitore subirà una serie di cambiamenti. Innanzitutto non occuperà tutta la fascia pomeridiana ed andrà in onda per un'oretta circa Barbara D'Urso, a gennaio, sarà in tv anche nel prime time con la fiction La Dottoressa Gio Ma nel 2019 la nostra conduttrice napoletana avrà un bel da fare, infatti, tornerà anche alla conduzione del grande fratello Nipi Ecco cosa va in onda al posto di Barbara D'Urso durante la settimana natalizia.In queste ultime settimane dell'anno, su Canale 5, saranno trasmessi dei film tipicamente natalizi Oggi vedremo lo spirito del Natale, domani 18 dicembre andrà in onda il film Il destino sotto l'albero, il 19 vedremo lettera di Natale, giovedì 20 ci sarà seguendo una stella mentre venerdì 21 è prevista la messa in onda di Operation Christmas Sabato 22 dicembre rivedremo ancora Silvia Toffanin con Verissimo